Siamo ancora con Fabrizio. Ciao Fabrizio, bentornato. Ciao, grazie. Oggi parliamo di umorismo e donne. Secondo me è una delle qualità più importanti all'interno di un rapporto. Ci deve essere dell'umorismo, ci deve essere dell'energia positiva, ci deve essere del prendersi in giro, non prendersi troppo seriamente, ci deve essere il momento per la battuta. Cioè si deve creare, come dire, anche una sintonia di questo tipo, che io ad esempio, con la ragazza che sto conoscendo e frequentando in questo periodo, ce l'ho in maniera molto viva, cioè ci prendiamo spesso in giro, ridiamo e scherziamo e quant'altro, no? Quindi l'umorismo è ogni presente. Tu cosa pensi al riguardo? Allora, c'era una volta, io parto sempre così, quando amo raccontare di episodi e di aneddoti personali. C'era una volta un ragazzo di nome Fabrizio, che prima di incontrare Play Lover, era solito far ridere, far ridere tanto. Era il classico compagnon, il classico simpaticon della classe, e alle medie faceva l'imitazione dei professori, alle superiori faceva l'imitazione dei professori, tutti ridevano, ragazze incluse. E quando poi si approcciò alle sue prime volte con le ragazze, continuava a far ridere. Faceva ridere, tanto ridere, sganasciare dalle risate, si dice, dalle mie parti. Al che poi la ragazza magicamente, anziché sviluppare attrazione nei suoi confronti, e questo ragazzi è un passaggio chiave, sviluppava troppo comfort, nel senso che rideva e basta. La ragazza lo chiamava solo per sentirsi... Per ridere. Esatto, per ridere, per sentirsi un po' più a suo agio, un po' più solare. E quindi si rese conto, questo piccolo Fabrizio, ancora alle prime armi, spaventato e con le gambe tremanti, che probabilmente far ridere e basta. Non era la tecnica giusta. Questo perché, ed è un altro passaggio chiave, perché il troppo umorismo va sì a generare comfort, tuttavia va a desessualizzare il rapporto, nel senso che non si crea tensione sessuale. Se noi facciamo troppo ridere la ragazza, la ragazza penserà che non abbiamo altri contenuti all'infuori del riso, della battuta pronta e quant'altro. Dobbiamo quindi riuscire a dosare l'umorismo perché è un'arma a doppio taglio. Di contro c'è chi l'umorismo non lo sa utilizzare, non lo sa dosare, a volte eccede, o comunque cerca di fare battute che non fanno ridere, perché attenzione ragazzi, esattamente come le arti marziali, l'umorismo non è per tutti. Nel senso che c'è chi sa tirare pugni e c'è chi non sa tirare pugni, c'è chi sa fare battute e chi non sa fare battute. Tuttavia è importante capire che le battute vanno fatte, bisogna riuscire a far ridere la ragazza, tuttavia poi bisogna smorzare, far capire alla ragazza in questione che non sappiamo fare solo ridere, altrimenti si genera troppo comfort, altrimenti purtroppo ragazzi, adesso sto per dire una parolaccia, si entra in zona amicizia, quindi la friendzone. Tu Cristian, con chi è che ridi solitamente? Con chi è che ti piace ridere? Con gli amici. Con gli amici. Esatto. E con chi è che la ragazza si diverte? Con chi è che muore dalle risate? Con gli amici. È ovvio. Allora ti dico, volevo aggiungere un esempio molto eclatante, anche qua nella mia carriera passata, ho avuto il piacere di conoscere un ragazzo che aveva questo problema qua, cioè lui raccontava di quelle barzellette che ti ammazzavi dalle risate, diceva di quelle battute che morivi da ridere, cioè eravamo un personaggio comico, però come hai detto te, non c'era tensione sessuale tra lui e le ragazze che conosceva. E sai che cosa succedeva? Le ragazze lo chiamavano per uscire ancora con lui, ma, ascolta bene, dicevano ho chiamato anche qualche altra mia amica perché con te ci si diverte sicuramente. Cioè la ragazza non voleva neanche uscire da sola con lui, voleva chiamare anche le sue amiche perché si divertivano troppo, no? E questo è un esempio che va a mecciare con quella che è la tua spiegazione. E lui era molto, come dire, frustrato da questa cosa perché diceva, caspita, ho veramente un sacco di ragazze attorno, addirittura una ragazza mi porta altre ragazze e sono in zona amicizia. Quindi è incredibile. E' incredibile ed è tanto frustrante quanto la propria natura è giusta da secondare, nel senso che se uno ha questa innata propensione a far ridere deve comunque seguire questo flow. Tuttavia quando poi si genera e si perpetra questo meccanismo tale per cui le ragazze ci chiamano, ti chiamano solo per farsi due risate e basta, sotto quella maschera da clown si nasconde una persona triste perché non riesce a concretizzare con le donne. Assolutamente d'accordo. Ragazzi, mi raccomando, non buttate da solo sul ridere ma cercate di creare anche tensione sessuale sul canale di YouTube di Playlover ci sono n video sulle tensioni sessuali, guardateli e se non vi bastano scriveteci che vi aiutiamo. Un saluto da Cristian e Fabrizio. Alla prossima, ciao ciao! Ciao!